Il Ministero dell'Economia sblocca il piano che prevedeva l'assunzione tra il 2014 e il 2015 di 2.563 unità nelle ospedali pugliesi. E in ragione delle deroghe ottenute, il Presidente della Regione Puglia, Nicchi Vendola, accompagnato dal neossessore alla sanità Penta Suglia, ha presentato venerdì 1 agosto, in conferenza stampa, il piano assunzionale 2014-2015. Vendola così spera di completare l'azione del suo governo in materia di sanità, aggiungendo a mezze infrastrutture anche il personale senza del quale i cittadini non avrebbero un servizio all'altezza delle aspettative. Il sistema sanitario pugliese, secondo Vendola, ha conosciuto l'impegno, anche durissimo, del piano di rientro. Il Governatore spiega, abbiamo fatto bene i compiti a casa, d'altronde lo hanno riconosciuto la Corte dei Conti e il Ministero dell'Economia. Oggi possiamo dire agli ammalati e cittadini pugliesi che dotiamo ai nostri ospedali non solo delle migliori tecnologie e delle migliori strutture. Di sale operatorie, messe a norma e di macchinari moderni, ma finalmente torniamo ad assumere personale. Mancavano figure specialistiche e primari. Oggi questa strozzatura finisce e si ricomincia a respirare. La Puglia ha un debito di personale sanitario che è veramente un problema storico, una criticità strutturale del nostro sistema sanitario. Tuttavia, alla fine di questa attraversata nel deserto, quando ci siamo dovuti confrontare con un piano di rientro drammatico per gli effetti sulla rete ospedaliera, sui posti letto e anche sulla percezione che i cittadini hanno di come esercitare il diritto alla salute, alla fine di questa attraversata noi vediamo la luce. Sono in corso assunzioni per 1146, tra medici, infermieri, personale amministrativo. Una grande novità anche per Taranto, perché ho firmato insieme all'assessore Pentassuglia le prime carte utili a far partire il progetto esecutivo. È come se oggi avessimo messo dal punto di vista della procedura burocratica la prima pietra per il nuovo grande ospedale di Taranto, 207 milioni di euro, che faranno di quel presidio uno dei principali poli della salute di tutto il centro-sud d'Italia. è il modo concreto di provare ad alleviare le sofferenze del capoluogo ionico.